Gianluca Savoini, indagato dalla procura di Milano per la vicenda dei presunti fondi russi alla Lega, arrivati attraverso una compravendita di petrolio a prezzo scontato, di fronte ai PM c'è rimasto ben poco. Il presidente dell'associazione Lombardia-Russia, si avvalso della facoltà di non rispondere nel giro di nemmeno un'ora, ha lasciato la sede esterna al Palazzo di Giustizia, dove era stato convocato. Massimo riservo dalla procura milanese, che ha iscritto Savoini nel registro degli indagati per corruzione internazionale, in seguito alle registrazioni dell'incontro all'hotel Metropol di Mosca, pubblicate dal sito americano BuzzFeed, a cui ha partecipato il 18 ottobre scorso insieme ad altri due italiani e tre russi, per discutere anche di un possibile finanziamento alla Lega per sostenere le spese dell'ultima campagna elettorale per le europee. Intanto anche il premier Conte invita Salvini a riferire in Parlamento, perché no risponde secco ai giornalisti sull'eventualità che si presenti in aula per chiarire la vicenda. Ma il leader del Carroccio non ci pensa nemmeno e continua a scegliere la linea del muro di gomma. Non commento le non-notizie e non intendo parlare di soldi che non ho mai visto e mai chiesto. Bugiardo, la sua difesa è ridicola, scrive su Twitter il pentastellato Alessandro Di Battista, mentre il segretario del PD Nicola Zingaretti domani andrà dal presidente del Senato Elisabetta Casellati per chiedere che Salvini riferisca in aula. Grazie a tutti.